Da sempre uno dei talloni d'Achille delle donne, le braccia rilassate con gli anni e la vita sedentaria sono a rischio cedimento. Come emerge dai dati delle ultime survey agora, considerate come uno tra i più sentiti e sofferti difetti corporei che costringono a scelte di abbigliamento che permettano di coprire le braccia. La medicina estetica però corre in aiuto e sarà proprio questo il tema portante della sessione congressuale che affronterà in modo esauriente ed esaustivo il trattamento medico-estetico delle braccia attraverso procedure non invasive. Un'area questa appunto molto sentita dalle pazienti e che grazie alle metodiche più attuali, spesso usate in sinergia, ha oggi raggiunto altissimi livelli di soddisfazione nei risultati. Dall'anatomia alle sinergie tra energy device e medical devices, con focus su bioristrutturanti, carbossiterapia, fili, radiofrequenze, tecnologie laser e gli infrarossi.